Cos'è una motosega? È un attrezzo per uomini molto soli Che schifo Saba a tutti ragazzi, siamo qui in un nuovissimo video con una nuovissima sfida E abbiamo un ospite speciale Campione paralimpico milanese di nuoto Una medaglia d'oro, due d'argento e un bronzo Tokyo 2020 Sette volte campione del mondo E così però mi sento a disagio Otto volte campione europeo, fa disegno ed è anche bravo Simone, va là! Grazie a tutti, grazie Kama per la super introduzione Io mi sento una nullità Facciamo vedere proprio al volo, giusto per le persone che non ti conoscono Una serie di immagini tue Ora lo conoscete come se l'aveste conosciuto da sempre Kama, a questo punto dici anche la sfida Perché non voglio perdere, voglio fare bella figura anch'io Ah sì, competitivi Dovrete fare uno scarabocchio reciprocamente E da quello scarabocchio dovrà nascere un'illustrazione a tema sport, ovviamente E le squadre saranno Simone contro Francesca e Riccardo Perfetto, chiarissimo Forse ci sarà in realtà Oddio Io a dire la verità mi sento un po' con l'acqua alla colla eh Allora, quindi Andiamo lo scarabocchio Oddio Ok Ce lo stendiamo? Vai A parte che, wow, l'iPad enorme Ma che cosa hai fatto? Non lo so Ma sono tantissime lì, tutte quanti Non è possibile Come si fa? È uno scarabocchio Ma non è uno scarabocchio? Io ho fatto una S perché ho detto tipo Simone, mi è venuta una S Ah beh, io sono contro due professionisti del settore Allora, bisogna utilizzare proprio queste linee Cosa? Devo, no Aspetta che lo faccio nero Che scarabocchio te l'anno? È questa la cosa Ma per chi segue il mio canale da un po' Sa che non è la prima volta che disegno sugli scarabocchi Ma è la prima volta che qualcuno mi passa uno scarabocchio così complesso alla prima manche Possiamo rifarla Una versione più light magari Non c'è una versione più light Sì, perché deve essere il Simone, che non poteva non avere un atteggiamento sportivo nei miei confronti Ha deciso di rifare uno scarabocchio Perché la sportività è importante ragazzi Esatto Vediamo Così Un po' più fattibile Ok, ok, sì, sì, sì Un po' più fattibile Allora, possiamo dare il tempo 3, 2, 1, vieni Ma che sport sta facendo? La tipa nel disegno di Richard Può essere uno sport A livello agonistico lo fa certo 3 minuti restanti Allora, io devo dire la verità Ma mi ero scordato la cosa lì Il tema principale del video Mi ero scordato Però mi piace come è ripiegato Stop Ok, nascondi il livello Allora Vediamo Per ora è lo scarabocchio Lo scarabocchio originale Lo scarabocchio originale Secondo te che cos'è? Oddio, per come hanno detto è uno sport ma non è uno sport È ruoto È ruoto Vai Oh mio Dio, ma è bellissimo Sembra io che corro No, non c'ho la barba Slenderman che corre È vero Ma sai che c'è bisogno di davvero un sacco di fantasia E anche bravura Perché comunque è venuto proprio bene Beh, oddio, anche il tuo Sì, vabbè, ma io, cioè Qui io mi rimetto sempre la tua sportività Secondo te Avere un aquilone e decide di farlo volare nel cielo L'aquilonaggio L'aquilonaggio A livello agonistico, certo È uno sport o no? Mi raccomando, Simone Sei sul mio canale Allora, secondo me Se si fa dello sforzo fisico C'è della competizione E si può vincere qualcosa È uno sport Se Cama vuole cercare competizioni mondiali Allora, io qui mi rimetto a Cama Dai il tuo punteggio Giudice supremo Allora, diciamo che potrebbe essere uno sport Perché lo sforzo fisico è contrastare il vento Che ti tira l'aquilone, no? C'è una prestanza fisica C'è bisogno di bravo Tu sai far volare un'aquilone? No Ammetto che non so far volare un'aquilone Quindi do per scontato che entrambi siano sport A prescindere da questo Obiettivamente Mi ha tremendamente stupito Il disegno di Simone È proprio bello È reso veramente, veramente bene Devo essere sincero anch'io Cama per questa volta Ha ragione Sto perdendo Anche contro Simone Il punteggio Anche se qualitativamente parlando Il mio è una vasca indietro È stilosissimo È super stiloso E infatti io darei del merito Anche al mio scarabocco Un ticino gamma Potresti anche E prima manche vinta da Simone Bisogna di integratori alla fine di questa Massaggiatore Io adesso do il cambio Francesca Finalmente un degno avversario Ah Ecco adesso non posso più disegnare Salve salve Concorrente Buonasera Mi piacere di conoscerla Ora tipo sto in panchina così Con l'acqua Mi prendono e mettono l'acqua addosso Vedo che Sei già in vantaggio Cioè io mi siedo Che sto già perdendo Mi pare un'ottima situazione Bene Grazie Rick Signor Kama È arrivato il momento quindi del secondo round Potete procedere a scarabocchiarvi Reciporicamente gli alp Faglielo difficile Francesca Vallo soffrire Oh questo E possiamo girarlo Difficile Non me ne parlare Molto complicato Sai che tu inconsciamente mi hai disegnato una silhouette perfetta Davvero Abbiamo già vinto abbiamo già vinto Ma dove Credo in te Francesca Dai vai ci provo ci provo Puoi anche girarlo eh Sì sto girando tutte le parti è sempre più Può girarlo spostarlo cancellarlo arrendersi Piuttosto faccio figuracce ma non mi arrendo Non ci stiamo arrendo Simone è un dispensatore di messaggi di vita Never give up Simone Barlam Elenchiamoli ogni volta Che giornale Di questo font che si compone Siete pronti quindi? Ma prima di iniziare Imprevisto Disegna in apnea Ok Cosa? Per superare questa sfida dovrete avere dei polmoni di acciaio Dovrete rimanere in apnea durante tutta la durata del disegno Più che potete insomma Era impegnativo di suo sto scarabocchio però Io ringrazio la regia Ringrazio chi ha scritto questa sfida Ringrazio Riccardo che ha deciso di stare in squadra con me E mi ritiro Innanzitutto partiamo un attimo con una piccola curiosità Per quanto tempo Simone riesce a tenere il respiro? Eh beh lo scopriamo Non ne ho idea In realtà secondo me non è che sono così forte come può sembrare Diciamo che avendo dei polmoni più grossi Più o meno del doppio Questa cosa lo aiuterà Siete pronti? Nati, pronti Non barate Vi metto una bolletta nel naso Nel frattempo stanno diventando rossi Finito Oh Francesca resiste Ha vinto Francesca la gara d'apnea Ma vediamo se vince il disegno Francesca sta morendo intanto Che poi voglio precisare Oggi mi sono allenato due volte Sono distrutto Oh Francesca è un futuro da nuotatrice Hai battuto un campione paraolimpico di nuoto Ma che sta cagando Io non ho neanche fatto l'ambiente dello sport Ho fatto la persona che lo pratica È bellissimo Ma anche se avessi avuto più tempo Che cosa avresti disegnare? Io ci sono Possiamo fare il reveal quindi Ohle E questo è uno scarabò Ma sei pronto? No Allora Ora lo voglio vedere anch'io scusa Guarda Ho dato tutto nella mancia di via Io volevo fare una signora dell'acqua gym Ma che sport è una signora dell'acqua gym? Ho detto nuoto sincronizzato Però non avrei saputo bene disegnare un atleta nuoto sincronizzato Ok Le signora dell'acqua gym Sembra uno di quei saluti alla giapponese No? Quando fanno tipo Ciao Infatti diceva che mancava il corpo Perché in teoria sotto ci sarebbe voluto essere un po' d'acqua però A me sembra ginnastica ritmica se posso dire Le ballerine no? Che fanno così E il tuo ti è venuto bene? Molto bene Diciamo che mi ha fatto un assist enorme perché se tu guardi effettivamente questa è un'onda E questo è il surfista Ma sì è vero Se avessi avuto più tempo me la sarei giocata bene L'unico problema è che poi c'è stato un attimo di Questo non è un uovo ma è il sole E anche la tavola da surf va in una direzione un po' imprevista Non so Se quello è imprevisto a sto braccio cos'è? Esatto Giudici supremo Diamo il punteggio Mi dispiace Questo giro qui Simone ha fallito Ha fatto un buco nell'acqua direi Riccardo non farmi perdere Perché Francesca stia recuperando tutti i fallimenti di Riccardo Ma dovrebbe oh guarda che l'aquilonaggio è uno sport serio eh Quello di Francesca palesemente è venuto anche molto bene oltretutto Non esageriamo Camas Se no mi metti in difficoltà Partivi da uno scarabocchio Ho detto questo Hai tirato fuori un surfista anche ben fatto devo dire Anche ben fatto Quasi al livello dei miei soliti disegni direi Eh invece quello di Simone è contrario di quanto mi aveva stupito prima Questo in realtà è Stupito in negativo Questo non capisco che sport faccia Ma il fatto che abbia rilasciato il respiro anzitempo Probabilmente non ha agevolato la finalità del disegno Direi di procedere con la terza manche Assolutamente Io cedo il mio posto quindi All'onorevole Riccio Ci vediamo più tardi Paura Posso dire che è salita nella tier list la Fran Come avversari più temibili della mia carriera sportiva Mi sono ricaricato E la cosa mi spaventa non poco Ti faccio fuori capito Scarabocchiolo Voglio proprio vedere come se la caverà con questo scarabocchio che gli ho fatto Anche io Opla Ok Mi può andare bene? No a me quella roba lì Potete vedere le meningi di Simone che sono Ma che esplodono Ce l'ha Ce l'ha Andiamo Gli attimi prima Ce l'ho anch'io Questo ce l'ho sul serio Ed è uno sport 3 2 1 Ho fatto Quindi Riccardo ha deciso deliberatamente 50 secondi prima del termine Vabbiamo di continuare Vabbiamo di migliorare il più possibile Che qui 3 2 1 Agguerrita questa manche Meno male con la maglia nera perché sto appezzando l'anima 3 2 1 Ah L'hai usato pancia in su Dai secondo te che cosa ho fatto? Secondo me Uno sport dove c'è molto Come nel mio acquagin prima Ci sono degli atleti molto slogati Perciò magari ginnastica Danza Io non so minimamente che cosa tu abbia fatto Perché io quando ho fatto questo scarabocchio ho proprio detto Ora boh Ora boh 3 2 1 Eric era Ah A lui piace fare le persone tutte Infatti oggi sono cubista Bellissimo Ma guarda A Ric piace fare le giurie Perché altrimenti non riesco a far capire che è uno sport vero Mi piace veramente tantissimo perché io ti faccio uno scarabocchio tutto quanto storto Ma tu in questa stortaggine ci metti un corpo Un dinamismo Diventano super dinamici Io invece me la sono capata così Ho disegnato soltanto il resto Vabbè Un'idea semplice ma non scontata Cioè io non ce l'avevo pensato Mi sarei detto queste devono essere le teste di qualcuno Queste devono essere una parte Facciamoci caso Ogni volta che in uno scarabocchio si fa così E si chiude una linea Lì c'è una testa Ma ora vediamo Kama cosa ci dice Sono veramente in difficoltà in questo caso eh Però credo di avercelo Ah giusto Il vantaggio acquisito da Francesca prima ha consentito al team Rick Fra di mantenere la testa Ma in questo caso ho dato un punticino in più a Simone per l'inventiva Come ha detto giustamente Rick anche al dinamismo e alla complessità anche dello scarabocchio Che era più difficile rispetto a quello di Rick D'altro canto Rick è riuscito nella semplicità del suo scarabocchio a creare tutto un contesto e un disegno anche veramente molto 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 bello Poi capita anche quest'altro piede così che si vede proprio che si è appena stoppato È perfetto è bellissimo ma non dargli più punti così Quindi adesso io mi rivedrò col mio cerimo nemico Che io abbia mai È caduto tutto Mi hai aperto una mano prima non ti toccherò No ovviamente so che sono qui soltanto per rimediare ai problemi che sta causando Riccardo Quindi facci vedere Terza manche ma prima di iniziare la terza manche c'è il secondo imprevisto Cos'è? Agli ipad sono qua Per un nuotatore stare a contatto con l'acqua è fondamentale In questa manche dovrete inserire nel vostro disegno dell'acqua in qualsiasi forma vogliate Voi dovete disegnare sott'acqua Solo che non sarete completamente sott'acqua ovviamente ma solo le vostre mani al che vi forgerò gli strumenti Sono confusissimo Non sto capendo Spostate gli ipad Come ci scambiamo gli scarabocchi Esatto Avete due foglie a disposizione Voi fate lo scarabocchio sul foglio Poi vi scambiate il foglio Lo inserite nell'acqua E dovete fare come sempre Ho tante domande Anch'io ho tantissime domande ma me le terrò tutte per me Esatto Che spasso Ecco qua grazie Amica mia Amica mia Vieni mi incontro Ecco il foglio si è appena bucato Ma solo qui in alto quindi alla fine non è successo niente Vabbè dai io tre minuti ma avete finito? Sì dai abbiamo fatto il bagno se no poi vengono le dita palmate Quindi stop al tempo Spostiamoli di lato Ok Asciugamano al centro Potete estrarre Stendiamo i panni Sembrano le fotografie quelle quando vengono sviluppate Tu estrai lo piano Ma poi non si A me non si vede niente È rimasto l'acqua l'inchioso Non lo so No si vede No perché così non si vede contro luce In effetti Se metti la mano dietro si vede Scusa ma Ora mi fatevi una curiosità Guarda 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 lo vedi che Si vede lo scarabocchio È vero ma ci sono i tratti bianchi Però se metti la mano dietro I tratti bianchi diventano No vabbè Si vede vede Che fotocamera eh Ascendiamolo E voilà Ma è geniale Allora Ora fanno sport Però non sapevo chi farlo praticare Allora è orizzontale No no è verticale Ah no ho capito Era un peccatore No grazie Era un peccatore Però il tuo è geniale È un T-Rex che gioca a golf Ma c'ha le zampine Io ho detto questo è un T-Rex O uno scogliatolo È bellissimo Ti faccio vanno a sport Ti faccio vanno a sport Cacchia sei stato troppo Bravo Il T-Rex Ma guarda poi là Le nuvole stilizzate Capito Lui ha già trovato il suo stile È un livello di bravura assurdo Cioè Proprio queste idee Maledette Mi mettete seriamente in difficoltà E di solito Nelle sfide di Riccardo e Francesca È facile È facile Tanto devo perdere io Nelle sfide con Riccardo e Francesca Però ce l'ho E vi darò i voti immediatamente Partiamo da Fra Più 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 La montagna qua È una montagna spazio Più 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 E quindi ha preso di più Simone Ha preso di più Simone E si sono portati Quasi praticamente In parità Perché Allora vabbè Se ne farà È bello E poi Arrampicata Non è che Ovviamente gioca a mio favore Però devo dire la verità Che Simone riesce sempre A tirare fuori Da degli scarabocchi Che io non oso immaginare Che cavolo possa uscirne Delle idee Veramente belle E ben realizzate Oltretutto Bravissimi entrambi Bei disegni entrambi A Simone un pelo di più Per l'inventiva Avessi disegnato Kama qui Forse Vero L'ultima mancia ragazzi Pronti Via Turno di Ricc Che finalmente Anche in questo caso Questa volta L'imprevisto È ai danni Di Ricc Perché c'è il terzo Imprevisto In questa ultima mancia Non si beve Che significa? Nuotando è possibile Che un po' d'acqua Possa finirti in bocca Confermi? Confermo assolutamente Se l'esperto Confermo E mi confermi anche Che però Non va bevuta In questo caso Dovete disegnare Con la bocca Piena d'acqua No Allora io disegno Con la bocca Piena d'acqua Ma disegno anche Con il viso Rivolto così Verso di te Va bene? Ecco qui Tutta tutta Beh no Nel senso Riempiti la bocca d'acqua Vabbè Iniziamo a fare lo scarabottolo Due scarabocchi Veramente Tosti Ecco lo scambio Ah però Simone vuole vincere Ce l'ho Io C'è questa linea dritta Che mannaggia Con quella linea Ti ho voluto Volontariamente Mettere in difficoltà Sapevo benissimo Che questo era Il tuo punto debole Dalla panchina Ti ho studiato E ho sviluppato Una tecnica infallibile Per vincere questa sfida Maledetteline Ci sono Quando siete pronti Bevete dal vostro Rispettivo bicchiere Alla salute Andiamo Siete pronti? Via Quindi dobbiamo farli ridere Scusate Cos'è una motosega? È un attrezzo per uomini Motosoli Che schifo Devo ribere Perché è tutta fuori Simone invece È imperterrito Due minuti e quindici Papà la nonna è cattiva Zitto e mangia Che abbiamo solo quella Pierino Smetti di dondolare il nonno Altrimenti impicco anche te Cinque Quattro Tre Due Uno Stop Ho bevuto tutto Mamma mia L'ultima mi stava proprio a fare Chiunque abbia detto quella di Pierino Fa molto ridere Bravo Tre due uno Sono provatissimo ragazzi Non so proprio cosa tu abbia fatto Tu? Ho salto in lungo per me Ho salto in lungo È il movimento del salto in lungo In realtà ho salto in lungo Le gambe sono in avanti Non sono in ginocchio Tipo Ho salto in lungo Che non è molto bravo Cosa? La motosega La motosega Ma perché? Perché parlava di motosega E quindi lo sport dov'è qua? È baseball Un giocatore di baseball che ha motosegato Ma perché dovrebbe avere motosegato una palla? Sì però in generale non la sta neanche tenendo in mano Eh no La sta tenendo Qui c'è un po' troppa creatività Perché dà una mano alla mazza Nell'altra la palla E poi c'è questa motosega che spunta In che modo? Come? Guarda che lui è così La sta tenendo col gomito Sì certo Col gomito tiene la pallina No quello è il guanto E dove lo tiene il guanto? Il guanto tiene la mano però col gomito tiene la motosega È aggiunto anche l'ombra Sì E tu invece? Io ho fatto una gara canina Ah tipo agility dog Sì Vedi che qua c'è il circuito Anche lì la giuria In tutti i tuoi disegni c'è una giuria Era della sua firma la giuria Ma perché per far capire che è uno sport serio c'è una giuria E quindi qui ho fatto il cane che ha preso il primo posto Qui che ha preso il secondo posto E qua la giuria che ha visto tutta la performance Chi sta Cama Questo è un momento importante È un momento importante Parto con il punteggio di Simone Piu 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 Ah Piu 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 Si Un applauso ai vincitori I vincitori ufficiali sono Riccardo e Francesca Guardate Francesca quant'è felice Come avrei visto I veri campioni dopo lo sforzo devono riposare In questo caso qui ho apprezzato molto l'inventiva di Simone Nel mettere una motosega nel baseball Come reference alla battuta fatta da uno della chat Però il disegno obiettivamente è più bello si può dire dai Beh non iniziamo Poi stiamo valutando soprattutto l'idea Secondo me in questo caso la motosega è veramente di troppo La motosega tonava un po' con lo sport Lascia anche un messaggio un po' sbagliato Ma che poi mi sono messo a disegnare il baseball Io non avevo idea di come fosse fatto il guantone La palla Ti ho traviato facendo la testa qua Siamo stati in due Ma due contro uno Siamo riusciti a battere un campione Bala olimpico Capito? Nel curriculum va questo Nel curriculum Dov'è la mia medaglia? Dov'è la mia medaglia? Dov'è la mia medaglia?